Oggi riusciva a causa della curva, poiché era l'inforzamento di stracciosa. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo, poiché doveva passare via. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo, poiché doveva passare via. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo, poiché doveva passare via. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo, poiché doveva passare via. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo, poiché doveva passare via. Allora colse avanti e per poterlo vedere salì sul sicomodo.